Ciao ragazzi, per chi avesse fatto il bonus di AbraWallet vi comunico che effettivamente l'assistenza ha detto che ritarderà nell'erogazione del bonus di circa una settimana. Per quanto riguarda Bitpanda invece ci sono stati effettivamente tanti problemi, tuttavia esiste un modo per ritirare anche sotto i 150€ e se guardate il video in sovraimpressione vi spiegherò come farlo passo passo. Vi comunico inoltre che nelle ultime ore una buona fetta di utenti è riuscita effettivamente a ricevere il bonus.